Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, come vi avevo anticipato nei video precedenti, nuovo pezzo del robot ragazzi! L'avambraccio sinistro è stato appena presentato ufficialmente in game! Eccolo qua ragazzi! Eccolo qua! Ma mastodontico anche questo ragazzi! Tanta, tanta roba! Per questo robot ragazzi che piano piano sta davvero prendendo forma e che quindi è pronto a combattere il Cactus ragazzi! Il mostro del mare! Lo andiamo a vedere, come vedete c'è una specie di pistone gigante per farlo muovere! Veramente, veramente assurdo ragazzi! E anche bellissimo! Vi ricordo che il prossimo pezzo... Spara! Spara da qua! Spara i missili! Spara i missili da qua sicuro raga! Spara i missili da qua sicuro! Vi ricordo ragazzi che il prossimo pezzo del robot sarà dopo domani sempre alle 10! Io vi invito ad andare a dargli un'occhiata! Vi ringrazio per aver guardato questo video! Noi siamo in live! Ciao! E non parte mai l'outro! Non trovo più l'outro! E non parte più l'outro!